Una coppia che sta preparando una bellissima fiction in Bulgaria sono tornati apposta per noi Sebastiano Somma, Nina Soldano Somma sta scendendo come un campione di 100 metri e la Soldano non tiene il passo Buonasera, un nuovo look, complimenti Sebastiano bentornato e complimenti per tutto, accomodatevi Grazie, grazie a dopo Salutiamo Nina Soldano che è stata donna del mistero in queste serate Grazie per essersi divertita con noi Grazie, grazie a voi Io volevo ringraziare gli autori, il regista, Rossella Sono tutti molto molto carini Poi Fabrizio Gatta devo dire che è stato un compagno eccezionale Siete venuti insieme con Sebastiano dalla Bulgaria dove state girando una fiction La regia è di Luigi Berelli Si intitola Un caso di coscienza Ed è una bellissima fiction che andrà in onda con la nuova stagione E allora buona fortuna per questo Grazie Grazie